Cari lettori e lettrici, la novità letteraria che sto per presentare è un romanzo di narrativa gialla, che mescola in modo efficace suspense e psicologia. Offrendo un viaggio nei meandri della mente umana e nei legami familiari. La trama, avvolta da misteri e segreti, mantiene alta la tensione fino alla fine. Con ambientazioni selvaggi e claustrofobiche che amplificano il senso di pericolo e l'indagine che ne segue mette in luce la fragilità dei rapporti e il sottile confine tra fiducia e paura. La trama del libro nel nulla della scrittrice Sarah Pierce, pubblicato dalla casa editrice Newton Compton, è la seguente. Kier Templer vive la sua vita on the road. Soprannominata la figlia del mostro dopo l'efferato crimine della madre, si è lasciata alle spalle la sua città natale e il suo gemello. Una cosa, però, la lega ancora al fratello. Le mappe dei luodi in cui è stata, che crea e gli invia a ogni nuovo viaggio. Un giorno di lei si perdono le tracce nel Parco Nazionale del Portogallo. La detective Lynn Warner giunge nello stesso parco insieme a suo fratello Isaac, in un viaggio per ritrovare il loro rapporto, ma quando scoprono l'ultima e inquietante mappa di Kier, capiscono che la donna non è scomparsa volontariamente. I pochi sconosciuti che si trovano nell'isolato campeggio cominciano a serrare le fila di fronte alle loro domande, e la bellezza selvaggia del parco inizia a diventare sinistra. Lynn e Isaac devono districare gli indizi per scoprire cosa è realmente successo a Kier. Quando si segue una pista, però, bisogna stare attenti a guardarsi le spalle. Se ti perdi in questi boschi oscuri, una mappa non basterà per tornare indietro. Grazie per l'attenzione e buona lettura. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi della trama del libro presentato, se hai voglia di condividere il tuo pensiero lasciami un messaggio. Celebra la magia della lettura condividendo questo video e aiutami a diffondere l'amore per i libri. A te non costa nulla, per me sarebbe un bel gesto di gratitudine. Ricorda, ogni piccolo gesto può fare la differenza. Per non perdere le novità letterarie iscriviti al canale.